Credo che oggi devo ripetermi e complimentarmi con questi ragazzi che hanno superato uno scoglio molto importante come quello dello Spezia, una squadra organizzata molto bene e soprattutto molto stimolata perché oggi incontrare l'Entella per loro era una forma di motivazione molto alta per dare comunque anche un significato al loro campionato. I ragazzi hanno risposto come al solito in maniera strepitosa, una squadra molto matura, non si è mai disunita nel momento dello svantaggio, era come se avesse la consapevolezza della forza che prima o poi poteva portare a casa questa partita. Raccolgo per l'ennesima volta tanti dati positivi da questi ragazzi e una settimana è stata un pochettino travagliata con tante essenze però credo che hanno dato una bellissima risposta.